Dopo Basilicata e Sicilia, che sono partite il 2 gennaio, e Valle d'Aosta, che è iniziato lunedì, oggi i saldi invernali sono partiti in tutte le regioni italiane, Liguria compresa. Secondo una indagine di confesercenti effettuata su un campione di consumatori, 4 italiani su 10 hanno programmato di fare spese approfittando degli sconti, un numero inferiore rispetto al gennaio del 2020 nel periodo pre-pandemia, quando quasi la metà degli italiani si era detta interessata a fare compere nel periodo dei saldi invernali. Le aspettative sui saldi chiavaresi sono sempre alte, nel senso che è un bacino commerciale molto importante nel comprensorio. Oggi è il primo giorno, chiaramente la giornata magari non avvicina, però insomma ci aspettiamo un pochino di afflusso, che senz'altro ci sarà. E se Chiavari rappresenta un po' il cuore del commercio per il territorio, i negozianti chiavaresi hanno però patito un Natale un po' sotto tono rispetto alle aspettative. Il Natale è stato calmo, devo dire, forse gli ultimi giorni, perché soprattutto dal 27, c'è sempre più afflusso perché arrivano chiaramente milanesi, proprietari di seconde case, eccetera, eccetera. Per il primo dell'anno c'è stato più movimento in quel periodo lì. Non desta particolare timore neppure il passaggio ormai praticamente scontato della Liguria in fascia arancione, perché non cambierà praticamente nulla per i commercianti. Resta la difficoltà generale del periodo pandemico. Ma non si ha neanche la voglia perché non c'è neanche l'occasione di sfoggiare. Io noto che c'è un ricambio non dovuto a solitamente chiusure forzate, ma anche magari a attività che hanno determinati anni e quindi generazioni che hanno deciso di smettere. Certo, complice è il momento non troppo felice, però insomma non ci sono delle chiusure così eclatanti. Ci sono sicuramente delle aperture, devo dire, e quindi questo fa sempre molto piacere, perché una luce che si accende è sempre ben accetta, anzi si spera sempre di più. E quindi tutto sommato il bilancio non è così negativo a Chiavari. Grazie a tutti.